Dopo questo grande taglio da sud a nord d'Italia Eccoci finalmente arrivati in Val d'Aosta Ed ecco la nostra compagna di viaggio Kia Seed turbodiesel Con cambio e doppia frizione Nuovo sono proprio curioso di provarla Ma adesso ragazzi godetevi Questo fantastico panorama Io vi porterò un po' in giro per la Val d'Aosta In compagnia di un po' di tecnologia Andiamo Come vedete quello è il castello di Fenni E quando la tecnologia Vi salva la vita ovvero Guardate dietro a miei spalle la coda Non avrei mai scoperto questo posto Se non grazie alla tecnologia Perché eravamo a Fenni Fenni c'era una coda allucidante Per vedere il castello E allora ho avuto in mente una cosa Magari i biglietti li mandano anche online Sì siamo andati online Smartphone OnePlus 3 Gold Che sto provando Ho comprato i biglietti Ho prenotato la mia visita Ho prenotato la mia visita Anche al castello successivo Quello di Vera Arriviamo qua Mangiamo Mangiamo Dove? Guardiamo TripAdvisor Ci ha consigliato questa fantastica trattoria Omens Abbiamo mangiato benissimo ragazzi E adesso abbiamo prenotato la visita Al castello di Fenni E a quello di Vera E viva la tecnologia E tra l'altro qua In mezzo al nulla C'è il 4G Ma perché mi tocca correre anche in vacanza? Devo perdere questo vizio Di incastrare tutti gli appuntamenti Ecco la tecnologia non aiuta a fare le salite però Però guarda che bello questo castello Vai Gabri Vai che abbiamo L'ingresso Tra 3 minuti Qui siamo all'interno Sulle scale Che collegavano i vari I vari livelli I vari piani E una curiosità Guardate qua Una super carrucola E la fessura Perché qua c'era La sala cinesca Che doveva l'ingresso Qui siamo nella sala nobile Camino Per scaldarsi E dietro questa porta Il bagno Guardate Un buco sul nulla Sì sì Andava tutto sotto Ma vi immaginate in inverno Sedersi con le chiappe nude Su quel buco Con fuori freddo Beh devo dire che questa doppia frizione È abbastanza intelligente Perché in discesa Scala le marce Non c'è bisogno di usare le paletti Detro al volante Automaticamente E in salita si arrampica bene E dopo finito Dopo il pranzo Prontazione online Ci siamo Ma che bello è gabbar la fila Grazie all'online All'elettronica All'tecnologia Va bene Adesso vado a godermi Il castello di te Wow Anche ripresofiato Tutto girato da camera Anteriore di Oneplus 3 Golf Visita terminata Mamma mia che bello Ve lo consiglio a tutti Qua Castello di Fenni Bellissimo Tra l'altro guida Molto molto competente Che ci ha fatto appassionare Proprio alle storie medievali Di questo castello Sì ma la cosa più bella Qual è stata Scoprire che era uscito Un nuovo Xiaomi Dual camera Disponibile dal grosso shop E ordinarlo Mentre facevo la visita Sì Ovviamente sempre Seguendo la guida Multitasking Che dite me lo faccio recapitare qua Vai DHL vai Sì ma oggi sconfiniamo in Francia Andiamo a Chamonix E passiamo tramite Il traforo del Monte Bianco Comunque oggi Giornata spettacolare Stiamo per entrare Nel tunnel Uno dei tunnel più lunghi del mondo 11 km e 600 metri Vi do qualche curiosità Sul traforo del Monte Bianco La prima è questa Guardate davanti Vedete quelle lucettine blu Che ci sono a destra e a sinistra Praticamente indicano La distanza minima da tenere Dal veicolo che ci precede Questo per sicurezza Da quando nel 1999 È successo un brutto incidente Qua in galleria Non c'erano controlli Un camion ha preso fuoco Più o meno a metà del tunnel E adesso per entrare Il camion devono passare sotto A un grosso scanner termico Per vedere se hanno qualcosa Di surriscaldato La velocità minima Consentita nel tunnel È di 50 km orari La massima è di 70 km orari Tra l'altro all'interno Del traforo C'è Isoradio 1033 Che trasmette continuamente Informazioni sullo stato del traffico Sulle indicazioni Sulle istruzioni Per percorrerlo correttamente Eccolo qua Ovviamente è l'unica radio Che prende E tra l'altro All'interno del tunnel Fa caldo Guardate 26 gradi Fuori ce n'erano 14 Estate Inverno Io l'ho fatto anche per andare Al Salone di Cinevra Sempre a 26 gradi In mezzo al tunnel Con l'occasione della galleria Di questo lunghissimo tunnel Del Monte Bianco Per parlarvi dei fari Di questa Kia Ceed Sono All'Oxene Fanno tantissima luce Bellissimi in led Degli Ice Cube Ma Ma gli abbaglianti Elogeni Siamo usciti Siamo in Francia La mia moglie e mio figlio Attaccati alla vetrina Sbavanti Sì ma altro che Ghiacciaio con i vie Noi siamo tutti a Xamonì Per le pasticcerie No ma che spettacolo Il ghiacciaio Guardate Con la lingua che viene giù Arriva quasi fino a Xamonì E su Mi è quasi venuta voglia Di fare un po' di parapendio No meglio di no Sì ma dopo tutti questi dolci Un po' di camminate Ci vogliono E allora Orrido di pressanti die Praticamente una passerella Sospesa Su un orrido Ammazza se è orrido Opera ingegneristica Molto interessante Guardate Ci sono dei tubi In acciaio Vedete che sorreggono La passerella Più che sorreggono Sono compressi Perché poi ci sono Queste funi Ovviamente che lavorano A trazione Che tengono su La passerella Ma Quello che più impressiona È proprio L'elasticità di questa struttura Quindi non è stabile Non è fissa Noi siamo qua Su un orrido E balla anche un po' Ma ci sono i più pazzi I più temerari Che cosa fanno Vedete quelle carrucole Partono da là Arrivano là in fondo Praticamente se la fanno In bragadi E in carrucolati Poi salgono da quella scaletta Non so se si vede Dall'inquadratura E poi tornano indietro Io no E al piccolo San Bernardo Cosa trovi Un sacco di resti romani Oggi c'è compagno In questa avventura Xperia X Performance Non c'è quasi nessuno Quindi in pochi Mi prenderanno per matto Siamo in un micro laghetto alpino È gelido Lui è impermeabile Potevo non fare la pirlata No non potevo Ecco Allora Infine tutto facciamo Questa cosa qua Tira sulle maniche Meno male che non è tanto profondo Quindi se mi scivo la posso recuperarlo E Tutto chiuso? Ah ma sull'Xperia Xperia Non c'è niente da chiudere Vediamo se è impermeabile veramente Ci sono un sacco di animali marini schifidi Nella prossima puntata vi dirò se ha retto Buongiorno Buongior Buongiorno Buongior Pirlata numero due Sì ma il piccolo San Bernardo Era anche un importantissimo avamposto militare Pensate qua Si dominava praticamente questo Che era l'unico passaggio di valico Francia-Italia E allora E allora Importanti dotazioni militari Guardate questa Penso Che sia Una torretta Di avvistamento Tutta in ferro Ragazzi è veramente Incredibilmente resistente Con questi fori Da dove Guardavano Eventualmente sparavano E vedete questi tubi Tubi in ferro Ce ne sono anche là Probabilmente era per dare aria Alla galleria Su queste strade di montagna Tutte curve tornanti Il cambio si è comportato bene Frontale Secondo me Molto caratteristico Aggressivo Noi abbiamo la GT Line Vedete Gli Ice Cube Quindi i 4 led anteriori Che la caratterizzano Vi faccio vedere Il taglio laterale E il taglio posteriore Di questa Che è la versione GT Line E poi scolinando Siamo arrivati A la Roisier Si siamo in Francia Molto carino Come paesino Di solito qua ci arrivo D'inverno Con gli usciti Alla Twill E dopo 100 curve Incontro un paesino Molto carino Perché è molto carino Direi Trajoli Si vabbè Tutto molto bello Ma ce lo volete mettere Un negozio di elettronica Qua o no? Dai Due telefoni Tutto trajoli Ma Un po' di elettronica Vai famiglia Riprendiamo la Kia E Altri 100 tornanti Ci aspettano Il tetto oggi E' particolarmente panoramico Cosa ci faccio con tutti questi giubbotti in mano? Beh Semplice Oggi Si va la Skyway Oltre 3000 metri Ce l'abbiamo fatta Punta Hellbronner Siamo a 3300 rotti metri Fantastico Non sto a dirvi il panorama Che ve l'avranno detto tutti Ogni Wikipedia O guida Che si rispetti Vi parlerà di questo fantastico panorama Ma io vi parlo Di quella cosa Molto particolare E' un pilone aereo Perché dovete sapere Che da qua Partono degli ovetti Che arrivano praticamente Fino a Chamonix Non proprio a Chamonix Ma su un'altra vetta Molto alta Fanno l'attraversata Di tutto il ghiacciaio E per farli stare su Vedete Non potevano costruire un pilone Sul ghiacciaio Perché il ghiacciaio si muove E allora guardate C'è Un cavo Una fune Legata là in alto Su quello spuntone Un'altra legata là sotto Che tengono su I cavi Sia portante Sia traente Della Dello vovia Direi che i cartelli Non sono molto rassicuranti Ebbene sì Sono su un ghiacciaio Adesso vi faccio vedere Come arrivare E voilà Arrivati Una volta Questi 75 metri Erano molto più faticosi E a 2200 metri d'altezza Lezione 1 Di ingegneria idraulica Le dighe No ma ragazzi guardate Che facce felici Che hanno queste mucche E ci credo Sono qua in Valferrè Guardate dove bascolano E adesso capisco Perché qua in Val d'Aosta La fontina I formaggi in generale Sono così buoni No Qui la Kia Non ci ha portati Perché qua si viene solo a piedi Guardate che spettacolo Le mie spalle Che spettacolo Questa Valferrè Bellissimo E oggi tocca A Xiaomi Redmi Pro Lo abbiniamo alla macchina Ok Come tutte le belle cose Anche questa vacanza È finita E adesso Carichiamo la Seed E torniamo a Milano C'è la cantinetta Che mi aspetta La tecnica della spinta Funziona sempre E voilà Tutto sotto La cappelliera Sì ma si chiuderà Proviamo Vai Macchina chiusa Partiamo Ciao ciao Bellissima casetta Ciao ciao Val d'Aosta Ok ragazzi Siamo partiti a 10 minuti E siamo già fermi Per mangiare Incredibile Non arriveremo mai a Milano Sì ma tecnologia Ne abbiamo Coyote Per vedere Se ci sono autovelox Lo sto ovviamente testando Il navigatore della macchina Che ci porta la destinazione E poi Google Maps Non c'è niente di più preciso Di Google Maps Per il traffico Oh e finalmente Eccoci a Milano Sì un po' Mi mancava Piazza Gaolenti I suoi grattacieli Ma andiamo a vedere Quanti chilometri abbiamo fatto Il cruscotto LCD della nostra Kia Ci dice 2741 chilometri Con un consumo medio Di 6.8 litri 100 chilometri Non male Ho fatto tanta autostrada Sempre attorno al limite Ma anche tanta montagna Tante salite Tante discese E devo dire Su questa Kia Non ho niente da dire Perché Veramente mi ha accompagnato In questi 2700 chilometri Senza il problema E soprattutto Devo dire Che il sedile È bello rigido Con il supporto lombare Sono sempre stato comodo Ma una cosa Devo dire E questo lo devo dire Ai miei familiari Ragazzi Guardate come mi avete Conciato la macchina Allora Prima di tutto Lattina buttata qua Polvere Cicche Questo è il posto Di mia moglie E guardate dentro La tasca Cosa si trova Grissini Smangiucchiati Parco avventura Vabbè Parco avventura ci sta Ma sono curioso Di vedere Come mi ha lasciato Il posto dietro Il mio figlio A cui dico sempre Gabriele Non mangiare in macchina Non lasciarmi tutte le briciole Guardate quanto mi ascolta Ok Adesso mi tocco Una bella passata All'autolavaggio Prima di togliere il supporto Per l'iPad Comodissimo È stato molto comodo Il mio figlio Guarda quanto spazio Di disposizione Tra l'altro Mia moglie È un pochino Più alta di me E il sedile È impostato Un pochino più indietro Ma adesso Io cosa faccio Faccio un salto In ufficio Perché Mi mancano un po' I miei gingili Tecnologi La mia cantinetta Andiamo a vedere come sta Caro Ninebot Quanto mi sei mancato Ho fatto male A non portarlo in montagna Quanta fatica Mi sarei risparmiato Ma cosa serve più bello Di arrivare A trovare Un bigliettino Eccoci qua Togliamo i cento sistemi Di sicurezza Allarmi Telecamere A guardia la cantinetta Ovviamente tutto smart Entriamo Ce l'ho fatta Mitico Cara cantinetta Ma quanto mi sei mancata Vedo tanti aggiornamenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.